Siete pronti per iniziare un viaggio nel nostro universo sensoriale? Risponderemo alle domande che da sempre l'uomo si pone sulle sue incredibili potenzialità. Scopriremo perché parliamo, perché sogniamo, perché ognuno di noi vede il mondo in maniera diversa. Cosa controlla il nostro senso della morale e il nostro inconscio? Vi svelerò tutto questo nella Macchina Perfetta. Speciale La Macchina Perfetta. Venerdì 20 dicembre alle 22.50. Solo su Dea Sapere Accredito.